Belen è stata una delle prime showgirl a utilizzare i social per promuovere la sua immagine. Sia da Facebook che da Instagram, Belen ha sempre tenuto un contatto molto stretto con i suoi fan con post frequenti e regolari. Ultimamente però la presenza della Rodriguez dalle sue pagine è decisamente più leggera, con post molto rarefatti in confronto al passato e con i fan che si sono trovati improvvisamente sprovvisti delle immagini quotidiane della loro beniamina. Sul caso infatti è intervenuto un ammiratore che ha chiesto nei commenti direttamente a Belen il motivo del cambiamento su social e lei ha dato una risposata abbastanza netta, avete ragione, è una vita ormai che posto poco. Sono diventata gelosa della mia intimità. Che devo fare? Sarà l'età che avanza. Visualizza questo post su Instagram. Retatui Un post condiviso da Belen Chiocciola Belen Rodriguez Roll, in data, 7-17, 2018-12-28 PDT